E' ben trovati con l'informazione di TRMH24. In primo piano sono scaduti i termini per presentare una manifestazione di interesse per l'acquisto dell'ex silva di Taranto. Soddisfazione è stata espressa dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Sentiamo. Il futuro dell'ex silva riparte dalle 15 manifestazioni di interesse arrivate per rilevare il siderurgico di Taranto. Al bando con cui era stato messo in vendita il polo ionico dell'acciaio hanno partecipato gruppi nazionali e internazionali. Tra questi il gruppo ucraino Made in West, le indiane Vulcan Green Steel e Steelmont e la canadese Stelco, oltre alle italiane Marcegaglia e Arvedi. Nell'ultimo periodo si è registrato poi l'interesse del colosso giapponese Nippon Steel. Non tutti questi gruppi però sono interessati a rilevare l'intero gruppo, motivo per cui c'è la possibilità che l'ex silva venga ridotta a uno spezzatino con vari rami aziendali venduti a diversi gruppi. Il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso si è detto soddisfatto dell'esito del bando e del lavoro dei commissari. In appena sei mesi hanno seguito le nostre indicazioni e sono riusciti a risistemare la piena funzionalità dell'unico alto forno rimasto attivo e a programmare l'apertura di un secondo alto forno nell'ottobre di quest'anno e di un terzo nella prima parte del prossimo, ha dichiarato Urso. Ora le aziende interessate potranno accedere a ulteriori informazioni sull'ex silva per poter costruire piani industriali, finanziari, ambientali e occupazionali. Poi toccherà al governo e ad Acciaierie d'Italia a scegliere il gruppo che garantirà il rilancio dell'impianto siderurgico di Taranto, un rilancio che dovrà passare da una transizione ecologica dello stabilimento. Dopo la tragedia di Antonio Ciccorelli, il vigile del fuoco di Foggia che ha perso la vita nelle operazioni di soccorso per il maltempo nel Foggiano, si alza la protesta dei sindacati. Siamo in pochi, si potenzino gli organici del corpo. Antonio Ciccorelli, il caporeparto dei vigili del fuoco di Foggia che ha perso la vita tre giorni fa, travolto dalla piena di fango e acqua di un torrente per prestare soccorso agli automobilisti bloccati per il maltempo, era in servizio fuori turno. O meglio, ha dovuto prolungare il suo turno per andare sul posto a salvare vite umane. Perché? Perché a parte lo stato di necessità ed emergenza, bisogna far fronte al numero di uomini e mezzi ridotti all'osso. E il giorno dopo i funerali struggenti nella cattedrale di Foggia arriva la protesta dei sindacati. Adesso basta, scrive Vespia della FNS. I decessi e gli infortuni ai vigili del fuoco sono riconducibili alle pesanti carenze d'organico che spingono i dirigenti locali ad organizzare il servizio di soccorso sul territorio, mettendo sul campo tutte le unità disponibili, impiegando anche i colleghi che si trovano alle porte della pensione, rimarca il segretario. Ed Antonio Ciccorelli era pochi mesi dalla pensione. Tocca al governo intervenire. C'è bisogno di nuove assunzioni e di potenziare mezzi e strumenti al coro delle forze sociali. Così come in polizia. L'acquistura di Foggia, ad esempio, per restare nel solo territorio del nord della Puglia, è sotto organico di quasi 200 uomini sull'intera provincia. Viene chiesto un cambio di passo per intervenire ed impedire che avvengano nuove morti in servizio, perché sì, gli eroi esistono, ma non può esserci il dubbio di un sacrificio ingiusto. E ci spostiamo a Matera per le celebrazioni dell'ottantunesimo anniversario dell'insurrezione della città contro le truppe di occupazione naziste. Vediamo. A Matera le celebrazioni per l'ottantunesimo anniversario dell'insurrezione antifascista del 21 settembre 1943, una manifestazione organizzata come ogni anno dall'amministrazione comunale, in collaborazione con prefettura, provincia, forze dell'ordine e associazione nazionale partigiani d'Italia. Un evento celebrativo finalizzato a trasmettere e a valorizzare la memoria della Resistenza, periodo storico tra i più tragici del nostro paese, che ha visto Matera, prima città del mezzogiorno, insorgere contro il nazifascismo. Una mattinata intensa in cui, nei pressi della sede materana della Camera di Commercio di Basilicata, è stata inaugurata anche la scultura di Vincenzo Rutigliano, commissionata dalla provincia e dal comune di Matera, nell'ambito delle celebrazioni dell'ottantunesimo anniversario dell'insurrezione della città di Matera contro le truppe di occupazione naziste, e anche in occasione del 250esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Il monumento è stato commissionato in ricordo del sacrificio di tutte le vittime del corpo, in particolare del finanziere Vincenzo Rutigliano, medaglia di bronzo al valor militare, cui è intitolata la caserma a sede del comando di Matera, caduto eroicamente il 21 settembre del 1943. Alla cerimonia sono intervenute le principali autorità civili, religiose e militari. Un messaggio di riconoscenza e di onore per un martire che ha sacrificato la sua vita per i valori di libertà del nostro Stato, per dare una testimonianza di fedeltà anche ai valori di appartenenza però al proprio corpo, il corpo della Guardia di Finanza, che è veramente molto compenetrato con la realtà materana. L'onore più grande è avere avuto oggi la signora Rutigliano, la figlia di Vincenzo Rutigliano, e inaugurare un monumento che incarna perfettamente lo spirito di questa città, il suo rigore, la sua sobrietà, la sua eleganza, in un'opera che veramente ritengo molto molto pregevole, che darà lustro a quella giornata che tutti noi ricordiamo con dolore, ma anche con speranza e d'orgoglio. Amatera, l'Assemblea di Feder Manager, al centro l'etica e la competenza nell'era dell'intelligenza artificiale, ma anche le sfide e le opportunità per i manager. Sentiamo. Amatera, l'Assemblea annuale di Feder Manager Basilicata con l'incontro sul tema etica e competenze nell'era dell'intelligenza artificiale, sfide e opportunità per i manager. L'incontro si è proposto come un momento di riflessione e approfondimento sulle sfide etiche, sulle nuove competenze richieste ai manager nell'era dell'intelligenza artificiale, con l'intervento di esperti di livello nazionale nei campi dell'intelligenza artificiale e della gestione manageriale. Negli ambienti di lavoro attendere, dico attendere perché oggi, almeno nella mia esperienza, non è che si vedano ancora molto queste cose, però attendere mano a mano che macchine sempre più intelligenti lavoreranno fianco a fianco ai lavoratori in carne ed ossa, avremo a che fare come management con ambienti di lavoro ibridi. Il problema delle tecnologie intelligenti è che non tutti i lavoratori si fidano di quello che le macchine, degli output delle macchine e questo richiede quindi una modalità di gestione e di approccio anche di risoluzione dei problemi nuova, innovativa, sui quali dobbiamo imparare a formare i manager. A formarli rispetto a che cosa? Ad esempio, come si interloquisce con la macchina. Noi siamo abituati a comunicare con esseri umani, lo facciamo fin da bambini, nessuno ci ha mai insegnato come si interloquisce con le macchine. Le prospettive per i manager sono quelle di crescita, noi vogliamo crescere soprattutto andando a managerializzare le PMI, che attualmente sono poco managerializzate e rappresentano il 95% delle imprese in Basilicata. Bisogna che in Basilicata investiamo sul capitale umano. For Manager nella sua classificazione mette potenza 95esima, Matera 82esima nell'indice di managerialità, cioè significa pochi manager per imprese, pochi manager donne. Noi dobbiamo sforzarci per tirare su questo numero. A Bari, i giovani allievi da scuole edili, pugliesi e più esperti maestri si sono sfidati nella gara regionale di arte muraria 2024. L'obiettivo è quello di incoronare il miglior muratore dell'anno. Vediamo com'è andata. È stata una giornata all'insegna di stucco, scalpelli e mattoni quella che si è tenuta a Bari, in Piazza Massari, in occasione della gara regionale di arte muraria ed il Trophy 2024. Alla competizione organizzata da Forma ed il Bari hanno partecipato i migliori giovani e i più esperti maestri selezionati nelle scuole edili pugliesi. L'obiettivo è quello di gareggiare tutti insieme per eleggere quale sarà il muratore dell'anno. Quest'ultimo però verrà decretato solo il 12 ottobre, quando Bologna andrà in scena alla finale in cui le squadre vincitrici delle selezioni regionali si esibiranno nella realizzazione dei loro manufatti. L'intento di questa iniziativa però è anche quello di dare visibilità all'intero processo produttivo avvicinando i più giovani al mondo del comparto edile. Questi manufatti vengono costruiti con tecniche innovative e con materiali assolutamente nuovi, innovativi del settore. Questo anche per divulgare un'altra verità di questo settore e cioè che è un settore in continuo movimento, in continua innovazione. In Puglia però non sono molti i ragazzi attualmente attratti dal mondo dell'edilizia, una tendenza da invertire quanto prima per dare nuova linfa a tutto il settore produttivo. Purtroppo nei nostri ragazzi ancora non riesce a passare il messaggio che l'edilizia è un filone di tutto rispetto perché oltre a dare soddisfazioni economiche molto maggiori rispetto ad altri settori è anche come dicevo prima un settore completamente rinnovato e innovativo. In questo settore si avvicinano di più i ragazzi immigrati tant'è che con i ragazzi immigrati stiamo facendo un grosso lavoro anche con il Ministero, con il progetto Ampal, soprattutto con i minori non accompagnati. La cultura, il Festival Duni riaccende i riflettori sull'opera del compositore materano del Settecento Giacomo Sarkuni per il secondo appuntamento della storica rassegna musicale, un doppio evento. Vediamo. Riscoprire le opere di Giacomo Sarkuni, esponente della scuola napoletana di origini lucane, vissuto nel Settecento, è a questo che il Festival Duni dedica nella sua venticinquesima edizione una parte importante del suo programma. Attorno alla figura del musicista materano è stato infatti sviluppato un vero e proprio progetto ideato da Filomena Sarkuni e illustrato durante un incontro nella sede di Matera dell'Università degli Studi della Basilicata. Il progetto nasce innanzitutto da un aneddoto familiare che è stato tramandato di generazione in generazione che io ho deciso di approfondire per la mia tesi di laurea che ho svolto durante il mio master di violino in Belgio. Sicuramente è stato molto emozionante per me poter riportare alla luce la memoria di un compositore valido e insomma adesso andremo ad approfondire tutti gli aspetti della sua biografia e del repertorio. A seguire le opere sacre di Giacomo Sarkuni sono state eseguite nelle sale del Museo Ridola di Matera dall'orchestra barocca del Festival Duni con le voci di Anna Maria Sarra, Angelica Di Santo, Gianna Racamato, Stefano Colucci e Beppe Naviglio sotto la direzione del maestro Francesco Dorazio. Dal 2018 il Festival Duni continua così nel suo intento di mettere in luce compositori lucani, in particolare materani che hanno prodotto musica di rilievo durante il loro tempo. Il nostro scopo è proprio quello di valorizzare i talenti sia del passato che del presente dell'area meridionale perché è il barocco visto da sud. Abbiamo già attuato qualche scoperta, abbiamo iniziato con Trabaci, l'intero ciclo delle passioni, siamo passati l'anno scorso a Donato Ricchezza e adesso tocca a Giacomo Sarkuni. La speranza di questo festival è quello di esportare gli autori materani, lo faremo a Parigi sicuramente nel 2025, addirittura cercando di portare un'opera di Duni, ma cercheremo di incidere queste musiche di ricchezza e Sarkuni per avere una testimonianza importante nel tempo. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie. Grazie.